Alla emittente Rai Vaticano arriva Stefano Ziantoni, è lui che l'andrà a gestire, giornalista per oltre 30 anni di tempo, vi ricordo che è stato un organico del Tg1, ha avuto tante esperienze che ha avuto nel corso del tempo, nel corso degli anni, a partire dalla conduzione del Tg1 fino ad arrivare a 1 mattina come cronista politico e a seguito di presidenti importanti del nostro Paese, del nostro Stato, fino ad arrivare pensato al Presidente della Repubblica in merito, ossia Giorgio Napolitano, ma anche ai relativi presidenti di Camera e di Senato. Dal 2014 al 2022 è stato corrispondente dalla Francia, sempre per la Rai, l'azienda di radio e di televisione italiana per eccellenza, e dalla capitale a Parigi è raccontato gli anni delle stragi, fino ad arrivare all'incendio che arrivò nell'anno 2019 alla catedrale di Notre Dame. E adesso si è pressa per l'appunto di arrivare al Rai Vaticano, un impegno, ma è un'esperienza che sicuramente metterà frutto e che, secondo me, avrà, diciamo così, un bel interesse e un bel concentramento nell'ambito di energie che lui andrà a spendere nei confronti di Rai Vaticano. Auguro a Ziantoni ogni bene, complimenti, ossia congratulazioni vivissime da narratori italiani e tutto, e soprattutto tanti auguri di buon lavoro a lui. Iscrivetevi, commentate, questo video ovviamente non vuole leggere la prevasi di, per l'appunto, Stefano Ziantoni, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Da narratori da Arena è tutto, ciao a tutti.